Sì, ho visto i manini, su, 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 forza ritmo! Sì, ho visto i mani, su, forza ritmo! Sì, ho visto i mani, su, su, forza ritmo! Sì, ho visto i mani, 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 su, forza ritmo! Sì, ho visto i mani! Sì, ho visto i mani, su, forza ritmo! Sì, ho visto i mani, su, forza ritmo! Sì, ho visto i mani, su, forza ritmo! Sì, ho visto i mani! 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 Oh, troppo... Non ero piccolo, cioè con una matita pure, mettevo con il microfono e facevo fin da che cantavano, questa era la passione. Però io pure, però da grande poi ho scoperto di essere sponata. Tutti, ma tutto tu. Non avevi niente. Amici da sempre, niente. Niente, non ti è riuscito. Ho un'altra missione da conglie. Un'altra missione. Quarto parte. Ognuno ha la sua missione su nella vita. Vabbè. La mia nata, vabbè. E invece la tua cantante dove? Giorgio, vieni qua. È scappata. È scappata anche lei. Tu da quanto tempo che canti? Anche io da piccola. Uguale, perché da piccola prendevi la matita. Mi mettevo davanti alla televisione. Bravo. Guarda voi, è un bellissimo gioco, quindi come ho augurato Ottotino di fare una grande carriera per un bel futuro, lo auguro anche a voi due. Grazie. Vi faccio fare un altro forte applauso. Grazie. Grazie. E ora siamo pronti per ascoltare l'ultimo video.